Alba Parietti, chi è, età, carriera, oggi, chi il fidanzato, ex marito, figlio, foto, Instagram. Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con oggi e un altro giorno. La trasmissione in onda dalle 14 è condotta da Serena Bortone, tra gli ospiti di oggi. Oltre al giornalista Alessio Zucchini, anche Alba Parietti, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all'amore ritrovato in Fabio Adami. Lei che rivedremo sul piccolo schermo da domani perché sarà tra i protagonisti di tale e quale a Sanremo. Show che vede alla conduzione Carlo Conti. Nata a Torino il 2 luglio del 1961, Alba Antonella Parietti esordisce in tv nel 1980. In una emittente privata torinese. Nello stesso anno conduce un programma in radiofonico. A Radio GRP, con Piero Chiambretti. Ma è ancora una sconosciuta. Solo dieci anni dopo. A 29 anni, il grande pubblico si accorge di lei, e il 1990 il suo fisico statuario colpisce tutti quando appare alla conduzione di Galago al Sutele Monte Carlo insieme a Massimo Caputi. Da allora è tutta una scesa. Nel 1992 la Parietti presenta il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo. Millie Carlucci e Brigitte Nielsen. Nell'inverno del 1994 Alba Parietti diviene la prima conduttrice donna di Striscia la Notizia. Poi ha avuto anche parti nel cinema, in programmi televisivi e in reality show. Adesso parteciperà, nelle vesti di opinionista, all'Isola dei Famosi. Ma veniamo alla vita privata. Alba Parietti è stata sposata con l'attore Franco Oppini dal 1981 al 1990. Dal loro matrimonio è nato, nel 1982, un figlio, Francesco. Nel 1991 fino al 1996. Alba è stata fidanzata con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga. Colui che Alba Parietti ha definito l'uomo più importante della mia vita. Sempre nel 1996 Alba ha avuto una storia breve ma intensa con Christopher Lambert. Poi ripresa, sempre molto brevemente, vent'anni dopo, nel 2016, in questo ultimo caso il ritorno di Fiamma è durato quattro mesi. Nel frattempo, dal 2001 al 2007 la Sugar l'ha avuto una lunga storia con il principe Giuseppe Lanza di Scalea. Dal 2010 al 2014, con Cristiano De Andrè, figlio del celebre Fabrizio. Ora è felice al fianco di un altro uomo, Fabio Adami, un romano di 55 anni che nella vita lavora come manager per poste italiane. Ora che abbiamo conosciuto meglio il profilo Alba Parietti, la domanda successiva sarebbe, è possibile seguirla sui social? La risposta è certo che sì. E il modo migliore per farlo è quello di seguirla su Instagram. Con un numero altissimo di followers, la Parietti sul suo social condivide tanti contenuti esclusivi che riguardano sia vita pubblica che su quella privata. I post principali riguardano i suoi lavori alla televisione o al cinema, tuttavia ci sono anche scatti con gli uomini della sua vita. Tra le altre cose, vi segnaliamo anche un profili Facebook, o meglio una pagina a lei dedicata per sapere tutto su la sua vita. Ganta e si pleca, grabește-te che treno sta nu așteaptă, dar io stiu deja che vreau cu totul altceva, inchide ochi si poti imagina che lumea è a ta, si in plus, poti sa sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, când è sus, când è sus, pot eu sa sar, acum ca nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot sa ma zis tot mai sus, mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus.